Il premio per tutti coloro che lavorano dietro le quinte dell'industria cinematografica teatrale e televisiva. Quest'anno la giuria del premio presiduta dalla Gullotta ha segnato ben 19 riconoscimenti, nonché premio alla carriera, come nel caso delle bravissime Maria Angela Melato e Giovanna Ralli. A premiare i vincitori molti personaggi noti del cinema e della televisione. Pensiamo ad esempio a Claudia Gerini che ha premiato il regista Giuliano Montaldo. Il vivo di Paolo Sorrentino ha ricevuto diversi riconoscimenti e uno di questi è stato consegnato da Giorgio Pasotti. Ma c'erano anche Carolina Crescentini, Violante Placido, nonché Alessio Boni che è salito sul palco per consegnare la Chioma di Berenice 2008 all'oceanografo di Caravaggio. Una grande serata che si è conclusa con una festa affollatissima in una delle location più chicche del centro storico di Roma, via Margutta. Non resta dunque che aspettare la cerimonia del prossimo anno e pinca il migliore.